buonasera ringrazio per l'invito il presidente professor Marcello Ciccuto e il consiglio della società dantesca italiana a cui mi lega il ricordo affettuoso e sempre vivo del professor Francesco Mazzoni e iniziamo allora la lettura del canto ventiquattresimo dell'inferno all'interno di un'ampia sequenza narrativa che travalica questo canto e il successivo giungendo fino all'inizio del canto ventisesimo il primo movimento del canto ventiquattresimo davvero un inizio mirabile come è stato scritto paragona il passaggio di Dante dall'apprensione a una rinnovata fiducia al cambiamento di disposizione d'animo del contadinello che dopo essersi disperato nell'impossibilità di portare al pascolo le pecore credendo la campagna coperta di neve scopre che si tratta solo della brina che in breve si scioglie segue la parafrasi di Bellomo la qualifica di canto di passaggio che al ventiquattresimo è stata più volte attribuita non dovrebbe velare il valore eccezionale di questi 151 versi quasi equamente compartiti fra la prima e la seconda parte si tratta comunque di un passaggio centrale se di un passaggio si tratta passaggio centrale per dir così dal momento che i ladri occupano il posto centrale appunto nel racconto di Malebolge che si distende fra i canti diciottesimo e trentesimo sequenza di cui appunto il canto ventiquattresimo è il cuore possiamo scorrere i primi versi nella prima immagine l'apertura della sezione bucolica del canto è affidata a uno stilema potentemente dantesco ed evocativo a sua volta rafforzato dalla similitudine con la scrittura e i suoi strumenti in quella parte che richiama immediatamente in quella parte del libro della memoria in circuit della vita nuova e indica un momento insieme astrologico e cronologico l'inizio dell'anno non tuttavia al modo fiorentino e nemmeno pistoiese che datava l'anno dall'incarnazione ma secondo lo stile romano dalla natività e a questa scelta secondo alcuni lettori sarebbe da attribuire un forte valore polemico l'inizio dell'anno dunque sotto la costellazione dell'acquario in cui il sole mitiga ossia smorza i propri raggi e la brina assempra cioè ricopia sulla terra l'immagine della sua sorella bianca la neve ma dura poco l'affilatura della sua penna perché la brina si scioglie facilmente e ben più rapidamente della neve al primo calore dei raggi del sole in quella stagione aurorale dell'anno il villanello prima si spaventa per la neve temuta poi si rincuora il diminutivo delicato reduplica il suono liquido della palatale di grado intenso e si accosta alla relativa circostanziale del verso 7 a cui la roba manca di solito si dà di roba una interpretazione come sostanze tuttavia mi sentirei di avanzare una diversa spiegazione che interpreta roba come vestito nel senso del gallicismo secondo il significato consueto al tempo di dante e sulla base del riscontro che generalmente si invoca per questo luogo con purgatorio 13 61 63 che si trova proprio al centro di un quadro per così dire tessile sono queste le uniche due occorrenze di roba nella commedia roba che poi al verso 31 dello stesso canto 24 è echeggiato dall'espressione non era via da vestito di cappa ossia adatta a un vestito completo con la cappa il mantello lungo e tale da intralciare i movimenti eco prolungata come sappiamo delle cappe degli ipocriti le cappe rance del canto precedente dunque possiamo vedere nella seconda immagine il villanello prima demoralizzato esce di nuovo alla campagna e scoprendo che la verità è migliore del suo timore la speranza ringavagna dice dante e lo dice con una bellissima e rustica espressione basata sul verbo ringavagnare neologismo denominale da gavagno che significa cesta e dunque nel senso di rimettere nella cesta recuperare la speranza prende dunque il villanello il suo vincastro ed esce per accompagnare per portare le pecorelle al pascolo nell'eco dolce dei bezzeggiativi spesseggiano i riferimenti biblici lo stesso gesto di battersi l'anca e di ascendenza profetica e il riferimento al vincastro è proprio della tradizione salmistica in particolare di quel salmo 22 che è il salmo del pastore del buon pastore la rima vincastro in piastro il rimante astro è unico nella cantica ci permette di richiamare le osservazioni finissime di ignazio valdelli che sottolinea come la lunga similitudine di apertura del canto si regga su una serie di ben quattro rime in assonanza in anno anca agna accia e si è arricchita da una rima equivoca e da una difficile rima sdrucciola rara e difficile inevole tutto questo all'insegna di una complessa similitudine che ben si accorda con la complessa ambiguità del canto insomma la similitudine svolge il tema della trasformazione potremmo dire è una similitudine della metamorfosi allo sbigottimento di dante nel vedere il volto turbato di virgilio segue prontamente la medicina l'impiastro del suo conforto è il piglio dolce con cui il maestro incoraggia dante e questo luogo del canto ventiquattresimo certamente arricchisce come è stato notato a posteriori la scena del primo incontro di dante con virgilio nelle immagini successive la terza e la quarta possiamo seguire i venti canti successivi che descrivono il primo tempo di questa parte del viaggio infernale ossia la faticosa risalita dalla volgia degli ipocriti e così da un ronchione all'altro da una scheggia a quella successiva sopra ciascuna di esse dante si aggrappa riuscendo a montare di chiappa in chiappa di roccia in roccia è parola che oggi rimane con sopravvivenze dialettali e ci riesce solo perché l'argine esterno il precinto è più alto di quello interno visto che malevolge pende tutta verso il bassissimo pozzo sia la parte infima dell'inferno rocce sporgenti rocce piatte cioè lastre si addensa in questi versi il lessico infernale su cui vorrei aggiungere qualche nota per rendere l'importanza della funzione dante anche a livello lessicale ronchione è forma attestata solo in dante e anche scheggia è parola che entra nel lessico italiano appunto con dante la combinazione ronchione scheggia di inferno 24 27 è la medesima che sarà poi ripresa nel 26esimo dell'inferno ai versi 17 44 è insomma il lessico della pietra che caratterizza gli scoscendimenti di malevolge e che qui giungerà infine al verso 62 nello scoglio ronchioso stretto e malagevole con le due immagini successive seguiamo il lungo trasferimento fisico da una bolgia all'altra che è partitamente descritto da dante intessendo virgilio citazioni bibliche niente affatto scontate citazioni classiche occorre dunque riprendere il cammino forte e ardito come infine dante si mostra e vincere l'angoscia l'ambascia con l'animo che vince ogni battaglia come già aveva detto ovidio in nell'ex ponto e allora più lunga scala conviene che si saglia con un eco precisa di inferno terzo 93 più lieve legno conviene che ti porti non si raggiunge la fama seggendo in piuma né sotto coltre splendido esempio anche qui come nel caso precedente di roba di lessico domestico e quotidiano relativo qui non più al vestire ma al letto che era in età antica ossia nell'età di dante un arredo complesso formato di varie parti che qui vengono evocate e se ne ricorderà anche boccaccio nella redazione volgare del suo testamento ancora una volta giri diversi costruiti su rime molto interessanti vari casi nel canto ventiquattresimo ci sono di rime uniche in tutta la cantica la rilevazione delle rime uniche è sempre interessante anche perché lo ha sottolineato luca serianni leggendo il precedente canto ventitresimo in questa stessa serie di letture d'antis la scala delle rime uniche aumenta via via che si procede verso il basso inferno nel canto ventiquattresimo ce ne sono diverse la rima in opia la rima in agra la rima in ebbia nella parte finale che apre la via alla rima unica in adro dell'inizio del canto successivo vediamo l'immagine successiva su per lo scoglio ronchioso ed erto si prende la via si procede nel secondo movimento verso la bolgia dei ladri quando si sente una voce un flatus vocis uscire dall'altro fosso dalla nuova bolgia che si presenta voce incomprensibile che la pronuncia rimane ignoto ma adire o adira pare a mosso il luogo del verso 69 è fra i tormentati della commedia e non è questa certo la sede per ripercorrere nel dettaglio la storia di questa variante basterà qui dire che adire è correzione correzione già proposta da foscolo fondata in particolare su una chiosa di pietro alighieri che riconosceva nella lezione concorrente ad ira un errore entrato nella tradizione o nell'interpretazione ma ci sono anche elementi per poter giudicare recuperabile la lezione ad ira se così fosse come leggono del resto altri commentatori quali jacomo della lana e benvenuto da imola allora probabilmente il dannato a cui lira appartiene è già vanni fucci che subito dopo verrà caratterizzato proprio come iroso si stringerebbe allora in una maggiore e più semplice unità l'apparizione del dannato vanni fucci che farà proprio del dire e del parlare per odio verso dante il motivo dominante del suo comportamento in questo modo si potrà vedere la presenza di vanni fucci nel canto ventiquattresimo tutta racchiusa fra i verbi del dire dal verso 64 all'ultimo verso 151 camminando dante parla per non parer fievole onde e cioè a seguito delle sue parole della sua voce che viene udita una voce uscì dalla settima volgia il nesso causale rappresentato da onde costituisce credo un motivo più per identificare nel dannato che parla vanni fucci che parla appunto mosso dall'ira e che probabilmente ha riconosciuto dante proprio dalla sua voce seguiamo adesso lo sviluppo del canto dante per ora può solo vedere e udire in modo indistinto i versi successivi 79 96 presentano la nuova volgia e i dannati che in essa sono puniti in due movimenti il primo descrive il luogo il secondo il tipo della pena la settima volgia si presenta agli occhi di dante come un terribile deserto gremito di serpenti o meglio come osserva anche bell'uomo di reptili essendo sotto questa categoria inclusi anche animali dotati di quattro perfino di sei zampe genti nude e spaventate cercano in vano correndo senza scampo né di pertugio né di elitropia dice dante di sfuggire agli orribili animali ma in vano perché serpi legano loro le mani dietro la schiena serpi ficcano la coda il capo fra le reni e si raggroppano sul davanti la visione della terribile stipa di serpenti è tale che ancora ricordarsene il ricordarsene scipa cioè rovina il sangue la serie rimica di questi versi è di forte impatto ripa in rima con stipa e scipa replica esattamente quanto ai rimanti inferno 7 17 19 21 e acquista credo ancora maggior valore se si osserva che scipare nel senso di rovinare danneggiare e soprattutto in quello di angosciare e straziare è accezione di monte andrea in una canzone in cui è in rima con traripa il che non può essere casuale monte dunque in dante il grande poeta fiorentino presente in dante così come spesso nell'inferno e si può vedere il caso che per me davvero eclatante su cui mi è capitato già di soffermarmi del canto tredicesimo dell'inferno su cui verso la fine di questo discorso vorrei tornare i versi che abbiamo sott'occhio non finiscono di stupire per l'arditezza dell'invenzione e quella che chiamerei la sfrenatezza della lingua le due spettacolari terzine dei versi 85 e 90 tra questa immagine e la seguente in cui si dice che nessuna parte del mondo conosciuto la Libia corrisponde alle libica sarenas di Ovidio può rivaleggiare con la bolgia infernale per quantità e specie di serpenti velenosi e nocivi all'interno di una sostenutissima cornice retorica che punta al meraviglioso e all'orrido la congerie iperbolica e sonoramente suggestiva di chelidri, iaculi, faree, cencri, anfesibene deriva dall'emulazione con luctano. La rarità della parola, delle parole alberga in un sistema peculiare di rime che incornisce a queste terzine in ancora in un'ancora più strenua definizione retorica. Faccio notare che la rima dei versi 89, 91, 93, Etiopia, Copia e Litropia è unica non solo in tutta la cantica ma in tutto il poema ma si trova già in Monte Andrea. Siamo insomma in presenza di scelte lessicali selezionatissime relative a un preciso settore delle scienze naturali ma insieme non prive di una tradizione recente di utilizzazione letteraria. I serpenti puniscono i ladri la cui azione è dominata dalla frode, dall'inganno e il serpente è biblicamente fino dal terzo capitolo della Genesi padre dell'inganno. Il serpente come ha scritto Romano Guardini che striscia senza far rumore è l'immagine più antica della clandestinità. La presenza dei serpenti è un elemento tradizionale della visione infernale dracones et serpentes e compaiono ad esempio nell'Avisio Santi Paoli e in altri testi visionari medievali. Spesso si tratta di un serpente drago, essere ibrido di diverse mostruosità. Accanto a questa tradizione biblica e dei testi delle visioni non si dovrà però credo trascurare un riferimento iconografico della massima rilevanza offerto a Dante dal mosaico, dal grande mosaico dell'inferno che vedremo adesso nelle due immagini successive in una visione generale e poi nel particolare. Dicevo nel grande mosaico dell'inferno nel giudizio universale realizzato su disegni di Coppo di Marcovaldo nella cupola del Battistero di San Giovanni, il bel San Giovanni di Dante, straordinario cantiere aperto proprio nell'età di Dante che impianta in Toscana la grande arte musiva. Nell'inferno del Battistero come vediamo spaventosi e giganteschi serpenti divorano i dannati. L'immagine mi pare sia un'evoluzione della figura del drago infernale pronto a divorare chi si perde, attestata e lo vediamo nell'immagine successiva nella tradizione scultorea di Benedetto Antelami nella lunetta del Battistero di Parma e ascendente alla tradizione letteraria della storia di Barlaame Iosafas. Della lunetta di Benedetto Antelami realizzata alla fine del XII secolo circolavano certamente in Toscana, in Italia, disegni e cartoni. Segnalo fin d'ora un dettaglio che mi appare non irrilevante dal momento che come si sa niente è casuale in Dante e cioè che il grande coppo di Marcovaldo è documentato negli anni Sessanta come maestro frescante nella cappella di San Jacopo in Pistoia. Passiamo all'immagine successiva. Il ladro che ora senza più intermittenze ti isola e si presenta, subisce il morso di un serpente alla nuca, laddove il collo alle spalle s'annoda, il verso 99 con meraviglioso verbo serpentino, è sempre un commento di Bellomo. Il morso ne provoca l'incenerimento ma immediatamente la polver si raccolse per se stessa e il dannato ritorna in un istante quello che era prima, come nella Sapienza degli Antichi si dice che lo Fenice o la Fenice, entrambe le forme sono accettabili e attestate nella tradizione, more e poi rinasce al volgere dei 500 anni della sua vita. La pena dei ladri si fonda sull'orrido intreccio tra il corpo e il serpente. Sono legate dietro le mani con le quali avevano prestamente rubato. Sono in una dominante oscurità perché la notte è il tempo dei ladri, è di notte che viene, che sopraggiunge il ladro, come la tradizione biblica in particolare dei Vangeli ci insegna. I morsi dei serpenti provocano una prima forma di metamorfosi che è introduttiva alla doppia ripugnante trasformazione del canto venticinquesimo. Straordinaria l'immagine della Fenice che deriva da Ovidio, il grande maestro delle metamorfosi, in serrato dialogo con Lucano finché la relazione fra i due poeti diventerà esplicita nel canto successivo, il venticinquesimo, nella grande gara che fonda la nuova poesia classica volgare su quella latina, convinzione profonda di Dante, lui primo e pienamente poeta, come aveva scritto nel capitolo venticinquesimo della vita nuova. È la metamorfosi il cuore di questo confronto, da un lato perché la metamorfosi della bolgia dei ladri è una vera metamorfosi ovidiana, dall'altro perché Dante supera Ovidio nell'idea della doppia metamorfosi, cioè della metamorfosi reciproca fra uomo e serpente voluta dalla giustizia divina che crocia questi colpi e anche questa rima in oscia proviene da Monte Andrea. Tutto è potente in questo canto dove Dante chiama Ovidio a una resa dei conti e ne esce vittorioso. Seguiamo adesso i versi successivi, i 30 straordinari versi che costituiscono il movimento finale del canto e che ci presentano il ladro Vanni Fucci Pistoiese e la sua storia, il peccatore più empio come è stato scritto di tutte le bolge. Le coordinate si individuano con rapidità, possiamo passare all'immagine successiva, come in una cronaca antica, Vanni Fucci di parte nera, Pistoiese, ladro sacrilego e bisogna ricordare che per Tommaso d'Aquino il furto sacrilego è il primo fra i generi di latrocino, soprannominato bestia, figlio illegittimo della famiglia dei Lazzari, famiglia grande di parte nera, personaggio di spicco delle vicende pistoiesi di fine 200, nella città straziata dalle contese tra bianchi e neri che come noto proprio a Pistoia presero il nome e lo esportarono poi all'interno di Firenze. Da Pistoia fu infine bandito nel 1295, il dossier giudiziario su Vanni Fucci che a noi è aggiunto e affidato primariamente al manoscritto 4 dell'opera di San Jacopo conservato all'archivio di stato di Pistoia morì poi poco prima del 1300 come riferisce il testo stesso di Dante. Nella successiva immagine potete scorrere e vedere in quella ancora successiva una parte del testo delle storie pistoresi, poi torneremo naturalmente su questi versi, una parte appunto delle storie pistoresi in cui viene citato Vanni Fucci insieme ad altri uomini giovani e gagliardi della parte nera pronti a scorrerie e omicidi. La presentazione di Vanni Fucci, possiamo tornare forse indietro sull'immagine precedente, è dominata dal lessico della bestialità anticipato dalla gola fiera e fondato sulla connotazione di Mulo, bastardo e bestia, probabilmente un vero soprannome da cui l'estensione di Tana, riferito a Pistoia, Tana di odi, di guerre e di sangue. A Vanni Fucci, bestia, piacque questa vita, il compiacimento del male è dunque l'inferno più profondo. Attraverso Virgilio Dante chiede che vanni, non che vanni Fucci, non mucci, ossia che non se la svigni, che non sgusci via o anche in senso figurato che non si sottragga. Per domandargli quale colpa lo abbia spinto laggiù nella bolgia dei ladri perché dice Dante io lo vidi, lo conobbi, uomo di sangue e di cruci, violento e iracondo. Vorrei sottolineare nella trama sensazionale di questi versi la rilevanza del verbo mucciare già notata dagli antichi commentatori, ad esempio da Benvenuto da Imola, il quale dice id est non fugiat et est vulgare quorundam lombardorum. Riconosciuto come germanismo da Gabriella Arcamone o di derivazione tardolatina secondo altri etimologisti, il verbo mucciare è attestato per la prima volta nel trattato di Albertano secondo il volgarizzamento pisano degli anni 80 del 200. Sarà difficile sfuggire alla sottile riverberanza del significato concreto dello sgusciare via fisico dei serpenti su un eventuale significato metaforico del sottrarsi a qualcosa. Come sempre in Dante il valore metaforico infatti si fonda ed è alimentato da un preciso significato concreto e fisico. Tutto converge nell'indicare una conoscenza diretta prima, un riconoscimento personale ora fra Vanni Fucci e Dante che d'altronde Dante abbia percorso le vie di Pistoia per quanto non la citi nel De vulgari ma nel De vulgari è presente ad abundanziam cino, ne abbia conosciuto fatti e personaggi non è certo ipotesi onerosa. Vanni Fucci deve dichiararsi ladro, nella sagrestia dei Belli Arredi, dove Belli Arredi è indubbiamente dipendente in specificazione da sagrestia e indica dunque il tesoro della sagrestia di San Jacopo, la cui straordinaria rilevanza fu già annotata ad esempio da Benvenuto da Imola, qui a Forte in Tota Italia non è stalia sacristia diciorista ceteris paribus, dunque un luogo di particolare importanza. Il furto di cui qui Vanni Fucci è costretto a dichiararsi colpevole fu un fatto di rilevante e tragica importanza per la storia di Pistoia di fine 200. Probabilmente fra 1293 e 94 Vanni Fucci insieme ad altri complici fra cui il notaio Vanni della Monna trafugò il tesoro della cappella di San Jacopo. Il furto suscitò grande scalpore, ne fu incolpato in un primo momento un innocente, un certo rampino di ranuccio foresi che si salvò dalla forca solo perché fu individuato e preso Vanni della Monna che confessò e travolse con sé tutti gli altri responsabili. Vanni della Monna fu impiccato nel 96 quando però Vanni Fucci come prima dicevamo era già a cuore Pistoia dunque Vanni Fucci non fu condannato, non fu preso e condannato per il furto. Nella immagine successiva potete vedere un breve testo tratto dal Miraculum de Furibus Tesauri Santi Iacobi, una cronaca scritta all'inizio del 300 in cui si riporta ecco vedete Vanni Fucci della Dolce, Vanni della Monna e Vanni Miron Epistorienses si riporta un breve assunto di questi fatti legati al furto sacrilego derivanti probabilmente da un documento ufficiale divulgato e noto che secondo Giancarlo Savino è da identificare in un libro di condanne del podestà Giano della Bella che era in carica nel primo semestre del 1294. Su due elementi vorrei rapidamente soffermarmi per dar conto della rilevanza del gesto di Vanni Fucci, della rilevanza nefasta del furto sacrilego. Il primo è il posizionamento della sacristia dei belli arredi di cui nell'immagine è possibile vedere un disegno, una ricostruzione in un disegno realizzato da Natale Rauti. Ecco la sacristia dedicata all'apostolo San Jacopo, San Giacomo il Maggiore, patrono di Pistoia, con il culto di San Giacomo ebbe una istituzione ufficiale a Pistoia intorno al 1145. Ecco la sacristia fu realizzata fra il corpo principale del palazzo del Vescovo e la cattedrale. Qui era stata ricavata la cappella di San Jacopo, qui per la necessità di disporre di un ambiente in cui conservare gli arredi sacri fu appunto realizzata la sacristia, probabilmente già intorno al 1170. Successivamente, sempre entro la fine del XII secolo, la sacristia fu sopraelevata con la cappella di San Nicola di cui sopravvive ancora quella deliziosa absidiola semicircolare che vedete raffigurata nel disegno. Cosa consiste l'importanza della sacristia dei belli arredi? Ecco consiste nel fatto che essa era deputata e fu utilizzata non solo per conservare il tesoro di San Jacopo che in breve tempo divenne davvero ingente, come Benvenuto da Imola anche ci ha confermato, ma anche come deposito dei documenti pubblici più importanti del Comune e del Vescovato, quindi i privilegi papali, ma anche il Costitutum Comunis Pistori Sigillatum, cioè la copia sigillata degli statuti del Comune o il Liber Focorum Comunis Sigillatum, cioè quel documento che serviva per l'imposizione delle tasse del sistema di tassazione. Da questo dunque ci si può rendere conto del rilievo della sacristia. D'altronde questo legame stretto fra dato religioso e dato civile è testimoniato anche dal fatto che all'interno della Cattedrale di Pistoia negli anni 30 dopo la morte fu commissionato a Cellino Dinese è realizzato il monumento funebre a Cino da Pistoia, il grande poeta della città che possiamo vedere raffigurato nell'immagine successiva dove Cino è rappresentato nel suo ruolo di professore in cattedra di maestro universitario. L'altro elemento su cui mi vorrei soffermare è l'importanza della gestione del culto jacopeo affidato anch'esso fino dalla seconda metà del XII secolo all'opera di San Jacopo, una istituzione che era guidata da due operari laici e che dunque ci conferma come il culto di San Jacopo sia sempre stato a Pistoia un elemento costitutivo dell'identità cittadina e incardinante della vita quotidiana. C'è dunque fino dalle origini una spiccatissima connotazione civile del culto del patrono. È questa la sacrestia dei belli arredi a cui Dante si riferisce, questa l'importanza di quel luogo simbolica e reale. Il gesto di Vanni Fucci non appare dunque solo sacrilego come offesa al santo patrono e custode della città, ma è anche un gesto potentemente politico, un attacco alla magistratura comunale e alle sue leggi. Violare quel recinto così intimo come abbiamo visto nell'architettura della piazza centrale di Pistoia significava violare la città tutta nell'insieme delle sue componenti, della sua fede, delle sue leggi civili. Atto dunque veramente bestiale in quanto sovvertitore delle regole della vita religiosa e politica, ossia della civitas nel suo insieme dialogante e non separabile. Le ultime immagini che possiamo vedere sono quelle relative a un documento importante, lo statuto dell'opera di San Jacopo, realizzato scritto in latino e poi volgarizzato nel 1313, dunque dopo Vanni Fucci, ma in età ancora dantesca. Qui avete un breve testo nelle immagini successive, un'immagine del manoscritto realizzato da Ser Mazzeo Bellevuoni, notaio dell'opera. I fatti della storia pistoiese, dei primissimi anni del Trecento, intessono, ci avviamo verso la parte finale del canto, la profezia di Vanni Fucci, detta per odio verso Dante perché prefigurano la dispersione della parte bianca da Firenze e l'esilio di Dante stesso. È una profezia che dunque si distingue per essere una maledizione e come ha scritto Tateo, una personale vendetta. I fatti di Pistoia e della Toscana e di Pistoia e di Firenze sono strettamente legati fra di loro, non solo per la comunanza che lega le vicende municipali della Toscana medievale, ma anche perché la vittoria, prima la cacciata dei neri da Pistoia, Pistoia e Empria di Neri si dimagra, poi la vittoria dei neri, la guerra di Moroello Malaspina, trage Marte, vapor di Baldi Magra, che portò tra il 1305 e il 1306 all'assedio, all'occupazione di Pistoia, portano infine alla caduta, alla rovina della parte bianca e alla vittoria della parte nera. Ecco tutto questo è strettamente legato alle vicende di Dante e tutta la vicenda assume un carattere più diretto e più forte se si ricorda, cosa che credo importante, che nella sentenza di condanna contro Dante del 27 gennaio 1302 Dante fu accusato insieme ad altri fiorentini che avevano ricoperto cariche a Pistoia di essersi intromesso parteggiando per i bianchi appunto nelle vicende interne, nelle lotte intestine della città di Pistoia. Questo punto mi pare di significativa importanza ai fini proprio della interpretazione del canto ventiquattresimo dove la scelta di un ladro sacrilego pistoiese noto malfattore e predatore potrebbe rappresentare il precipitare e concentrarsi di una serie di motivi tematici che fanno capo appunto alla natura delle condanne del 1302. È importante sottolineare che nella condanna contro Dante del 1302 non si trova soltanto un riferimento a procedimenti di parte politica ma anche alla imputazione per baratteria, oggi diremmo concussione nell'esercizio di un pubblico ufficio, tale da parificare gli sbanditi politici a criminali comuni infangandone la pubblica fama. Cioè l'accusa di baratteria configurava non solo un reato politico ma un crimine comune. Ecco che allora nella condanna di Vanni Fucci, ladro sacrilego della città, si potrà vedere per opposto la condanna di Dante, il terribile rovesciamento di Dante innocente che fino dall'esordio dell'epistola seconda conia quella definizione di exul in meritus che diventerà poi la sua firma riconoscibile. Così come, per tornare ad un elemento già citato, in Piero delle Vigne si vede per analogia questa volta Dante vittima dell'invidia e della corruzione. Del resto il legame tra Vanni Fucci e Pierre delle Vigne come immagine per opposizione e per analogia di Dante è forse più profondo di quanto si possa pensare. Se è vero che la trasformazione in sterpo di Pierre delle Vigne supera Palinuro e supera Virgilio è altrettanto vero che la metamorfosi doppia, bionivoca per dire così, di Vanni Fucci e del serpente supera Ovidio. A chi ha amato la sua città bellissima e famosissima di un amore che lo ha consumato come un fuoco si contrappone dunque nella bolgia dei ladri un ladro sacrilego, una bestia che ingiuria e morde e che da bestia anti uomo ha fatto il male della sua città e fa ora coscientemente deliberatamente il male del pellegrino che lo ha riconosciuto e lo ha costretto a disvelarsi. E adesso passiamo alla lettura continua del canto. In quella parte del giovanetto anno che il sole i crin sotto l'acquario tempra e già le notti al mezzodì sem vanno quando labrina in sulla terra assempra l'immagine di sua sorella bianca ma poco dura alla sua penna tempra lo villanello a cui la roba manca si leva e guarda e vede la campagna biancheggiar tutta onde si batte l'anca ritorna in casa e qua e là si lagna come il tapin che non sa che si faccia. Poi riede e la speranza ringavagna veggendo il mondo aver cangiata faccia in poco d'ora e prende suo vincastro e fuor le pecorelle appascer caccia. Così mi fece sbigottirlo mastro quando io li vidi si turbar la fronte e così tosto al mal giunse l'ompiastro che come noi venimmo al guasto ponte lo duca a me si volse con quel piglio dolce che o vidi prima a piede del monte le braccia aperse dopo alcun consiglio e letto seco riguardando prima ben la ruina e diedemi di piglio e come quei che ad opera ed estima che sempre par che nanzi si proveggia così levando me su ver la cima d'un ronchione avvisava un'altra scheggia dicendo sovra quella poi ta grappa ma tenta pria se tal che la tireggia non era via da vestito di cappa che noi appena ei lieve io sospinto potavam su montar di chiappa in chiappa. E se non fosse che da quel precinto più che dall'altro era la costa corta non so di lui ma io sarei ben vinto ma perché malebolge in ver la porta del bassissimo pozzo tutta pende lo sito di ciascuna valle porta che l'una costa surge e l'altra scende noi pur venimmo al fine in sulla punta onde l'ultima pietra si scoscende. La lena mera del polmon si munta quando io fui su chi non potea più oltre anzi massisi nella prima giunta. O mai convien che tu così ti spoltre disse il maestro che seggendo in piuma l'infama non si viene né sotto coltre senza la qual chi sua vita consuma cotà il vestigio in terra di sé lascia qual fumo in aere e in acqua la schiuma e però leva su vinci l'ambascia con l'animo che vince ogni battaglia se col suo grave corpo non si accascia. Più lunga scala convien che si saglia non basta da costoro esser partito se tu mi intendi or fa sì che ti vaglia. Levami allora mostrandomi fornito meglio di lena a chi non mi sentia e dissi va chi son forte e ardito. Su per lo scoglio prendemmo la via che era ronchioso stretto e malagevole ed erto più assai che quel di pria. Parlando andava per non parer fievole onde una voce uscì dell'altro fosso a parole formar disconvenevole. Non so che disse ancor che sovra il dosso fossi dell'arco già che varca acquivi ma chi parlava a dire pare amosso. Io era volto in giù ma gli occhi vivi non poteano ire al fondo per lo scuro. Perch'io maestro fa che tu arrivi dall'altro cinghio e dismontiam lo muro che come odo quince non intendo così giù veggio e niente affiguro. Altra risposta disse non ti rendo se non lo far che la dimanda onesta si deve seguire con l'opera tacendo. Noi discendemmo il ponte dalla testa dove s'aggiugne con l'ottava ripa e poi mi fu la bolgia manifesta e vidi vientro terribile stipa di serpenti e di sì diversa mena che la memoria il sangue ancor mi scipa. Più non si vanti Libia con sua arena che se che l'idri, iacoli e faree produce e cencri con anfisibena né tante pestilenzie né si ree mostrò giammai con tutta l'Etiopia né con ciò che di sopra al Mar Rosso è. Tra questa cruda e tristissima copia correan genti nude e spaventate senza sperar apertugio o elitropia. Con serpi le man dietro avean legate quelle ficcavan per le ren la coda e il capo ed eran dinanzi aggroppate. Ed ecco a un che era da nostra proda s'avventò un serpente che il trafisse là dove il collo alle spalle s'annoda. Ne ho si tosto mai, ne i si scrisse, con me il sacese arse e cener tutto convenne che cascando divenisse. E poi che fu a terra si distrutto la polver si raccolse per se stessa e in quel medesmo ritornò di butto. Così per gli gran savi si confessa che la Fenice more poi rinasce quando al cinquecentesimo anno appressa. Erba nebbiado in sua vita non pasce ma soldi incenso, lagrime, damomo e nardo e mirra sull'ultime fasce. E quale quel che cade non sa como per forza di demon che atterra il tira o d'altra oppilazione che lega l'uomo quando si leva che intorno si mira tutto smarrito della grande angoscia che gli ha sofferta e guardando sospira? Tal era il peccator levato poscia. O potenza di Dio quant'è severa che cotai colpi per vendetta crocia. L'oduca il domandò poi chi è lo era perché rispose io piovvi di Toscana poco tempo è in questa gola fiera. Vita bestial mi piacque e non umana siccome a mul chi fui. Son vanni fucci bestia e pistoia mi fu degna tana. E io al duca dilli che non mucci e domanda che colpa qua giù il pinze che io il vidi omo di sangue e di crocci. E il peccator che intese non si infinse ma drizzò verso me l'animo il volto e di trista vergogna si dipinse. Poi disse più mi duol che tu m'hai colto nella miseria dove tu mi vedi che quando fui dell'altra vita tolto. Io non posso negar quel che tu chiedi. In giù son messo tanto perché io fui ladro alla sagrestia di belli arredi e falsamente già fu apposto altrui. ma perché di tal vista tu non godi? Se mai sarai di fuori dai luoghi bui apri gli orecchio al mio annunzio e odi. Pistoia in pria di neri si dimagra poi fiorenza rinnova genti e modi. Trage e marte vapor di val di magra che è di torbi di nuvoli involuto e con tempesta impetuosa e agra sovracampo Picen fi ha combattuto. Ondei repente spezzerà la nebbia sicché onne bianco ne sarà feruto. e detto l'ho perché doler ti debbia. Grazie